A me ha colpito enormemente il passaggio che in Aula, in Senato, in occasione della discussione sulla mozione di sfiducia individuale al Ministro Bonafede, ebbe a pronunciare il senator semplice di Rignano, Matteo Renzi, perché se qualcuno ricorda, si era fatto appunto il suo nome in relazione appunto a vicende che erano state nucleate dalla sua partecipazione, seppur telefonica, alla trasmissione di Giletti, ebbe a dire, qui qualcuno ha ricordato di Matteo Bene, io voglio ringraziare il Presidente Napolitano, lui sa perché, voi sapete perché. Il Presidente Emerito Giorgio Napolitano non era stato minimamente fatto oggetto di alcuna citazione, di alcun riferimento in precedenti interventi. Contestualmente però, a seguito di tutte queste notizie, dichiarazioni, proflusioni e fluvi di commenti, dichiarazioni e tutto il resto, il Dottor Palamara ebbe a dire che a suo avviso, sempre nella trasmissione televisiva di Giletti, la nomina di Basentini, del Dottor Basentini a capo del DAP, fu opera di Pucci. Giacchè Palamara era in chat con personaggi che sembra abbiano forse impropriamente influito su scelte giudiziarie e non soltanto. Giacchè si leggeva, grazie alle chat di Palamara, che fin anche la Procura Nazionale Antimafia era decisa attraverso accordi che coinvolgevano non semplicemente magistrati. Ecco, volevo sapere da lei che, impressionante, perché penso che siano state attenzionate, quantomeno da qualche amico, da qualche collega anche a lei, che impressionante le abbiamo fatto quelle parole di Matteo Renzi che rinviavano al presidente emerito Giorgio Napolitano. Anche perché, torno a ripeter, lei poc'anzi ci ha ricordato come sia stato estromesso da un pull che doveva indagare sulle stragi e che questa estromissione, che poi è stata oggetto di varie spiegazioni anche da parte del dottor Derao, potrebbe anche aver dato fastidio a soggetti che nell'ambito della magistratura italiana magari avevano particolare vicinanza nei confronti del Presidente della Repubblica emerito. Presidente, io ho poi ascoltato, non ho potuto ascoltarlo in diretta, poi ho ascoltato l'intervento del Senatore Renzi così come quello di altri parlamentari. Sì, ho notato che questo ringraziamento a Napolitano non mi sembrava agganciato a quello che si era detto prima. Io l'ho detto anche altre volte. La vicenda della trattativa è stato mafia è stata una vicenda procedimentale e processuale che ha avuto una caratteristica diciamo da un certo punto di vista esterno al processo. Cioè noi, e forse di questo io ne andavo fiero perché significava che non era una indagine fatta in danno di una parte politica. Noi abbiamo ricevuto critiche anche feroci e non soltanto critiche da tutte le fazioni politiche, destra, centro e sinistra. Queste critiche sono state anche particolarmente virulente nel momento in cui la vicenda si intrecciò con la vicenda delle conversazioni di Napolitano. Ancora di più quando si vennero fuori i tentativi del Senatore Mancino in qualche modo di influire sull'andamento della nostra indagine con la Procura nazionale antimafia che respinse per fortuna al mittente queste richieste in qualche modo tendenti alla vocazione dell'indagine e quindi quello fu un nervo scoperto. Il fatto che l'indagine abbia intersecato le vicende della Presidenza della Repubblica certamente ha provocato una reazione molto forte. Il conflitto di attribuzioni è una reazione istituzionalmente ovviamente perfettamente legittima ma molto forte e ripeto non era stata attivata questa stessa reazione in casi che erano assolutamente identici. Quindi a casi uguali reazioni diverse. Io sono stato sottoposto al procedimento disciplinare poi archiviato e poi nel momento in cui si verificò la morte del compianto Loris d'Ambrosio appunto c'è stato detto di tutto. Per quanto riguarda il procedimento disciplinare la segnalazione al procuratore generale della Cassazione e poi quando ho visto le carte assieme al mio difensore di allora che era il dottore Ardita abbiamo visto che partiva proprio dal segretario generale del Quirinale. Quindi c'è stata una forte reazione per cui io non posso sapere perché a che cosa alludeva, perché in quel momento il senatore Renzi abbia sentito la necessità o l'opportunità di ringraziare il presidente napolitano. Io non lo so, questo non lo dovete chiedere a me. Però vi voglio dire anche un'altra cosa che forse può essere, alla quale sto pensando ora perché poi queste vicende sono state talmente forti, talmente anche ingarbugliate, talmente complesse che certi ricordi affiorano anche se stimolati dalla domanda. Se non ricordo male, a un certo punto, proprio nel momento più aspro della polemica dovuta al conflitto di attribuzioni. Il dottore Ingroia, che era ancora un magistrato della procura di Palermo e che quindi conduceva le indagini con noi, mi disse, ma fu una cosa, disse a me e all'allora procuratore della Repubblica Messineo, una cosa buttata lì come, anche perché noi l'abbiamo subito stoppato, io all'inizio pensavo che scherzasse, disse che a Roma aveva incontrato un noto giornalista, un direttore di un noto quotidiano che gli aveva detto che dal Quirinale volevano sapere se c'era la possibilità di un qualche contatto con la procura di Palermo per risolvere questa situazione come se fosse, e che in quel caso il punto di collegamento poteva essere sperimentato dal dottor Palamara. Io pensavo che Antonio scherzasse e comunque in ogni caso sia io che il procuratore Messineo, ma anche lui, era assolutamente d'accordo, era assolutamente d'accordo, anche Ingroia, che non ha detto ma stiamo scherzando, questi vogliono fare la trattativa sulla trattativa, questa fu una battuta, ma fu una cosa estemporanea, però io in quel momento ricordo che lui fece il nome di un possibile mediatore nel dottor Palamara, che in quel momento non capivo assolutamente che cosa potesse entrarci con le vicende del procedimento trattativa Stato-mafia e con le rimostranze del Quirinale. Quindi io questo è un dato di fatto che vi rappresento perché lei Presidente ha posto questa domanda, mi ha chiesto di Renzi, di Napolitano, del dottor Palamara. Io ne sono mai più tornato su questa cosa con il dottor Ingroia, anche perché poi nel frattempo il dottor Ingroia lasciò la magistratura e non... però la ricordo, questo riferimento che fu estemporaneo, ma si riferiva al... credo che il direttore a cui aveva fatto riferimento il dottor Ingroia fosse l'allora direttore di Repubblica Ezio Mauro, credo. Però il dottor Ingroia potrebbe essere molto più preciso perché io ricordo proprio fisico, eravamo nella stanza del procuratore, eravamo nella stanza del procuratore, Antonio Ingroia tornava da Roma e fece questo riferimento che noi bloccammo subito. Anche Ingroia era convinto che andava bloccato subito, non voglio dire che lui voleva fare assolutamente, anzi, conoscendolo, la pensava esattamente come me. Per il resto, guardi, non so perché... ecco, forse perché immagino il senatore Renzi abbia potuto fare... abbia potuto fare questo riferimento al Presidente Napolitano perché in qualche modo vengo identificato come uno dei magistrati contro Napolitano. Ripeto, non è mai uscita una riga di quelle intercettazioni e io non... le intercettazioni poi sono state distrutte con il nostro, ovviamente, parere contrario, ma la Corte Costituzionale ha deciso questo e siamo in una condizione che da questo punto di vista è veramente triste perché se qualcuno, come è capitato anche, se qualcuno si alza oggi o si alzasse domani per dire in quelle conversazioni c'era questa frase, questa cosa, purtroppo non saremmo nemmeno in grado di smentirlo per tabulas. e quindi noi... nessuno ha mai potuto dire che noi abbiamo violato mezza norma in quella attività di indagine, tanto più in quella vicenda delle intercettazioni del senatore Mancino con il Presidente Napolitano. Nessuno ce l'ha mai potuto dire. Quindi... però si passa come coloro i quali hanno cercato di, non so, di danneggiare o di ricattare il Presidente Napolitano. Guardi, io mi ricordo soltanto una cosa, proprio per dire il clima, per dire... io penso che queste cose dovevano essere note a chi faceva il Ministro della Giustizia nel 2018. Per dire il clima, durante il processo, quando noi abbiamo chiesto e ottenuto la testimonianza del Presidente Napolitano, che è stata fatta davanti alla Corte d'Assise di Palermo e con noi pubblici ministeri, che ci siamo spostati tutti al Quirinale, alla inaugurazione dell'anno giudiziario successivo, ottobre 2014, c'era un procuratore generale di Milano, quindi nemmeno di Palermo, intervenendo a Milano all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha detto che la magistratura avrebbe potuto risparmiarsi questo passaggio della testimonianza di Napolitano, che costituiva un'onta e una vergogna per l'intera magistratura. Quindi non criticando l'azione dei soliti pubblici ministeri pazzi o politicizzati, ma la Corte d'Assise che aveva autorizzato la testimonianza e l'aveva acquisita in dibattimento. È come se io mi mettessi a parlare in questi termini di un processo di Milano. Io penso che in quel caso giustamente sarei sottoposto a procedimento disciplinare. Quel procuratore generale di Milano poi divenne Presidente della Corte di Cassazione. Era il Presidente della Corte d'Appello, non era il Procuratore generale di Milano, giustamente, era il Presidente della Corte d'Appello, il Presidente Canzio. Per dire, il clima che abbiamo vissuto è stato questo, in cui quando è stato lambito il Presidente Napolitano, è successo di tutto.